Salve a tutti ragazzi siamo tornati su Resident Evil 7, questa volta con l'ultimo DLC di questo gioco, la fine di Zoe. Niente, iniziamo subito la partita, ovviamente è normale, difficoltà, e vediamo questo DLC dove ci porta. Se non mi ricordate male, se rammentate in Resident Evil 7, Zoe è rimasta petrificata, quindi dobbiamo scoprire ora questo successo, che fine ha fatto. Io ho deciso di salvare a Zoe, però ha fatto la stessa brutta fine. Da quello che ho capito, vestiremo i panni dal fratello di Jack, Jack Becker. Ora vedremo. Che cosa state facendo? Lei dice, Zoe Becker, respira ancora, contatta il QG. Hai detto Zoe. Signore, abita qui. Che cosa le è successo? Siamo qui per aiutarvi e... Ma che diavolo le avete fatto? Signore, ehi, ehi, fermo, fermo. Ma che assiduo questa signora. Che cosa sia strana. Che cosa sia strana, no? Che cosa sia strana. Ascoltami, vogliamo aiutarvi. Oh, gentile da parte vostra. Quindi, un elicottero da guerra ti sembra un mezzo di soccorso? Non sai di cosa stai parlando, dico davvero! Tu credi che non abbia idea di chi voi siate? Con tutti i mostri che si aggirano qui, dimmi, da dove arrivano, eh? Non è come pensi. Tu non puoi capire! Non posso capire, eh! Vedi quella ragazza? Quella! È la figlia di mio fratello. Mia nipote, lo capisci! E da questa parte, la famiglia non si tocca! Voi non la distruggerete, ok? Dopo già niente di gara. Non me lo permetterò, costi quel che costi! A Cristo santo! La ragazza è infetta! Sta morendo! E noi faremo la stessa fine! Se non andremo via da questo cazzo di posto! Lei non è ancora morta! Quindi fatti venire in mente qualcosa! O ti darò in pasta i tuoi amici là fuori! Ok, va bene! C'è una cura! Non menti! Non sto mentendo! Dico son serio! Ci stavamo preparando per il trattamento! Ma sei arrivato tu! E hai sputtanato tutto! Probabilmente ci stanno ancora aspettando! Comunque se ci vado a casa o c'è qualche assomiglianza con Jack? L'hanno portata in una vecchia baracca! Non lontano da qui! Te lo giuro! È lì dentro! Le assomiglianza ci sono! Sì, guardate che c'è qua! Se so mangiare schifo solo di quelli mangio! Ha variato! Fratice! Che è schifo! Ma la voce è stranissima comunque! Cioè è un vecchietto alla voce del ragazzo! Ho visto una cosa strana oggi mentre pescavo! È riuscito con il controllo che sembrava! Bella esemplare! Una delle... Nenze, la bella, la tesa, così giuro! Non so, non è un testo! Lo sto, non c'è altra volta! Sperimento su che vado degli animali! Questa è la sciamora! Ragazzi, quello che ho capito è che questo gioco si usa soltanto le mani! E nient'altro! Non ci sono armi! Usa solo le mani questo qua! Quindi questo è altro che Superman! Cioè questo è un mostro! È un supereroe questo! Altro che Superman! Destro, sinistro, destro! E poi di nuovo un sinistro! Poi se ancora non è morto, ci diamo un destro! Larva! Questo è come una sua famiglia! Tale e quale! Cioè si mangia a merda! Creatura! Ah! Con la larva si fa il medikit! Ottimo! Vediamo questo! Ma se non è tipo roghi! Che c'è qua? Assurdo! Vediamo un pochettino come ne ammazza sti nemici! Che la creatura possa essere combinata! Ottimo! Cioè cosa assomiglia a nonno di Heidi? Facci fate caso! Cioè io invece... Ci sparavamo caricatori interi e non morivano! Questo è un due colpe più che ammazza tutti! Destro, sinistro, sinistro, destro! Destro, destro, destro! Mamma mia! Roghi! Eh non lo so se roghi contro questo vince! Mi ha spaccato la testa! Hm! Che abbiamo qua? Cosa scassa tutto? Idolo del pugile! Che potenza! Che attacchi! Vogliamo collezionare sti idoli! Assurdo! Questa immagine non è così spaventata di niente! Ma che è successo? Abbiamo un deceduto! Cora! Ma che è successo? Che è successo? Che è successo? Che è successo? Eh puoi dirlo forte! Che è successo? Cioè nemmeno hanno, nemmeno possono contattaccare, siamo potentissimi, non ci diamo tanto il tempo di respirare, sempre se respirano questi monstri Quella, che stai facendo te? Ciao Ma ce ne vediamo tornare indietro no? Che è successo? Eh sicuramente l'hanno, l'hanno presa Che è successo? E dopo tutta con la fatica che ha fatto Dannazione, perché non funziona? Che fa, lo facciamo durare così poco? Non lo passerà Ha bisogno di una dose intera per riprendersi Ce n'è ancora alla base E facciamo un pugno a queste Ti ci porterò, ti prego Beh, poi così facile Madonna Che cazzo è successo? Ma che cos'è? Qua ci saranno mostri più cazzuti, mi sa tanto Che cazzo sta succedendo? No, assurdo ragazzi Ci vuole pure l'inventiva a fare queste cose Uno Che comico con sto nonnetto Vabbè anche suo fratello faceva ridere Guarda c'è qua Giornata del cazzo Cioè ragazzi non c'è paragona Tra questo e Chris Redfield Che l'avessero fatto tutti e due A questo DLC con questo Se non aveva carattere quello completamente Personalità zero Tutta un'altra cosa con questo Strano, non ricordavo ci fosse un muro Eh Ci sono delle luci da quella parte Ma se ci vado così I DLC più belli sono Sempre gli ultimi Ok Allora io penso la lasceremo In borca, no? Che succede? No, la prendiamo con noi La porteremo Tranquilla Zoe Manca ancora poco Sariamo sulla montagna, dai Ci aspetta la nebbia Quella deve essere la base Ok Andiamo non ora ragazzo Ragazze Ma se era un coccodrillo Ma forse pure mutava tutto E' la Ciao Ok Qui sarai al sicuro Aspetta qui Torno con qualcosa che ti farà stare meglio Vabbè salviamo Ok Che abbiamo qua? Una park Il nostro pugnetto Anche la movità fortia possiamo uccidere Vediamo Come se fosse Mi scoppia la testa E' stupendo Vediamo qua Attenzione Ma si vede che questo coso solo le mani C'è proprio tutto distrutto Bella, pure questi Che ci ammazzavano subito Che ci ammazzavano subito Wow Cioè tutti si possono ammazzare in modo da forti No? Sì Sì Che cosa abbiamo? Eh Ah Guarda è un'arma Ok Tiro del giavello 8 Assurdo Ma ragazzi è troppo bello Ma ragazzi è troppo bello sto DLC Ok Ok Ho trovato tutta la collezione Allora Non c'è bisogno di salvare Dai Ok Il motocicine Il motocicine si è propagato per tutta la paluta e continuano la sua potazione a contatto con gli organismi e di solita proprietà è vitale per i medicinali Se questi ultimi dovessero subire una notazione diventerebbe inutilizzabile Se questi ultimi dovessero subito una notazione È necessario sferire l'intera stazione senza evitare la notazione e subbatterla su Eh Porco cana Ti conviene non avvicinarti Dobbiamo comodere con questo Ciao Vai Che devi fare Oh Guardi che è un bagger lui Ti dovresti spaventare tu Tutto qui C'era un'altra vita con chi ha che fare questo Questo è un mangiammerda Sta attento Un altro Un altro È sempre lui Ciao Ciao Oh 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 Aspetta Aspetta il venturo E cosa c'erano le spalle queste Facciamo così a questo punto Ok Che c'è Niente Non ci possiamo salire più a 70 Gamble Ho messo pure un pescatore Ho messo pure un pescatore Ho messo pure un pescatore Oh Oh Lancia Bang In un colpo Se c'è Ho messo pure un pescatore C'è un altro Oh Oh È questo Ok Ok E c'è un altro Oh E questo E' questo E' questo I coccodrilli mutati Ma che cos'è questo? Che pensavo che ce la stava facendo Invece è morto Queste lance Dobbiamo tenere belle strette Mi sa tanto Ci vedremo belle strette Appena ci attacca qualcuno Le utilizziamo Questo è forse lo Lo tenere E non si può prendere La perdiamo Ma la ce ne ha Cuccia Qua non l'avevo vista Mettela via Vediamo se mi ricordo bene Sinistro Destro E così via Ciao 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 Finiscilo E che cos'è E che cos'è E che cos'è Abbiamo scampato No Ok Abbiamo scampato Ok Saliamo Questa ero Quante sta scavando? Ok Ha pure armato di torcia questo qua Fa raglia Tutte le cose dentro la sacchietta Ha tutto sotto la torcia Vediamo qua Ok Qua che c'è? C'è qualcosa? Eccola un altro idolo del pugile Qua si sarà visto tutti i film di Rocky sicuramente Sicuro Questa cos'è? Aspettavo che era più potente E invece Scorso Altri lombrichi Sì Per i vari Ci siano i furtivi Sento ci siano i furtivi Sento ci siano i furtivi Ci andiamo piano piano Indietro Così Boom Che ci facciamo? Caccia l'arma Oh oh C'è un peralbero Che ci facciamo? Non questo stato in questo stato Per i miei Oh 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 altra ferraglia, usiamo qualcosa per fare qualcosa, creare qualcosa, vediamo a cosa serve, altra ferraglia, guarda che qua sto, ciao, via forte questo qua, che cazzo, assurdo, non vuole morire, vai, ora è morto, questi qua si è meglio ucciderli proprio in maniera furtiva, però ti fanno un culo davanti, fariamo salire di qua, che c'è qui, lancia, c'è, combinati con la ferraia, ti credo lancia, assurdo, stiamo facendo il giro, stiamo facendo il giro, non c'entra niente, ma lì qua ci siamo stati, oh, qua devo andare, chi è, che c'è, che c'è, che scomparsi, ci andiamo da dietro, l'ho netto forti io, non c'è niente per noi, no, non c'è niente per noi, no, questi due li facciamo un po' di qua, ovviamente quello corazzato viene all'ultimo, non c'è, po' avvissuto, ora è morto guardiamo di qua, ci fa salire un bugno, niente no, di qua, niente, mi stavo chiedendo troppo che abbiamo qua? sintonizzazione calmo, e questo ha la maniera di scassare tutte le cose eccola, finalmente ah, di nuovo quello ok, questo farà una puzza chialtere la mosca oh, che fa? boss c'è questo pure con i pugni che ci va trochi contro crit la stai calmo non eh ah 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 è è ah 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 Parla pura Westring Un incontro di Westring John Cena abbiamo qui Ma quello l'ha squartato in due E infatti No Questa pure usa destra sinistra Sinistra destra Ti piace? Prendi Vai Stavolta l'abbiamo sciso Allora Assurdo Che è successo? Non so come si rialzerà più Niente Non la devo fare altre munizioni E una etiquette Non ci credo che finisce così Cioè non ci credo che finisce così eh Che c'è qua? L'hai sbloccato C'è Zoe Zoe Ecco la medicina Ora sarai meglio Aiai Sempre lui Ma che cazzo Merda Ma usa la barca Doi Doi Dove sei Doi Dove sei Dove sei Questo proprio non vuole morire Però non l'ho capito perché cosa è così speciale Devi lasciarci in pace È stronto Lasciarci in pace È sparito No Vedrai cosa ti combino Che 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 è sta cosa? Questo posto Mette i brividi Ma Dirai Ma cosa sono? Dai Involvi di mostri Mi Dove sei Che Che E N No 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 Grazie a tutti.